Come studiare alla SFU è un'esperienza nuova perché rispetto alle altre università si concentra molto di più sulle esperienze pratiche e sul renderci partecipi delle materie che dobbiamo affrontare durante il corso dell'anno ed è questo quello che mi piace nel senso rispetto a stare lì a studiare sui libri come magari ho fatto in triennale, qui invece sono io che partecipo attivamente alla lezione e costruisco anche la lezione stessa. Il fatto di lavorare in gruppi sicuramente ci aiuta a confrontarci con gli altri ragazzi su quelle che possono essere le loro idee ma anche su poi le loro aspettative rispetto alle materie che dobbiamo studiare, quindi può aiutare ad aprire anche un po' gli orizzonti, i nostri orizzonti e rispetto al contesto internazionale adesso siamo qui appunto a Vienna è interessante vedere come altre realtà rispetto a quella italiana si muovono nella psicologia.